Il presidente di Lega Ambiente del Circolo Stella Maris di Agropoli denuncia attraverso una lettera indirizzata al primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, al comandante dei vigili urbani, Carmine Di Biasi, al presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Tommaso Pelegrino, e ai carabinieri forestali del parco, lo stato del sentiero che da Trentova raggiunge la località Pastena ad Agropoli. Siamo costretti a denunciare per l'ennesima volta che il sentiero che da Trentova di Agropoli a zona Pastena continua ad essere percorso da autovetture fuoristrada che arrivano fino allo scoglio del sale. Con l'arrivo della stagione estiva per evitare il pagamento del parcheggio, evidenzia Salsano, le autovetture vengono parcheggiate lungo il sentiero che parte dai campi da tennis nella zona di Trentova, rovinando il selciato che è stato da pochi mesi appaltato con l'esborso di migliaia di euro. Inoltre, continua il presidente di Legambiente, il sentiero è diventato un immondezzaio nonostante l'intervento continuo dei volontari di Legambiente e di altre associazioni del territorio che provvedono alla pulizia dello stesso. Tutto ciò avviene perché, nonostante le nostre sollecitazioni, non si provvede a sbarrare l'ingresso del sentiero con una sbarra ed un locchetto, consentendo l'ingresso solamente agli autorizzati per cui gli automezzi portano i rifiuti ingombranti lungo il sentiero. Infine, conclude Salsano, è necessario in particolare nel fine settimana intensificare i controlli da parte dei vigili urbani e dei carabinieri forestali. Uno straordinario patrimonio ambientale e naturalistico del Parco Nazionale del Cilento non può essere lasciato nell'abbandono e nell'incuria.